Abbiamo perso, smarrito la retta via ed è per questo che il 7 saremo in piazza per ricordare che la via maestra è quella della Costituzione e la nostra Costituzione ci ricorda che l'unico modo per ottenere la pace è con i negoziati, dobbiamo lavorare tutti i giorni per costruire la pace, per prevenire i conflitti e noi di un ponte persa saremo lì perché sappiamo che cosa significa lavorare un paese in guerra, sappiamo che cosa significa l'orrore e la violenza quotidiana. Ci vediamo il 7 ottobre a Roma.